Allora, argomento di oggi sono le espressioni regolari. Come vi accennavo prima, da questo momento in avanti il corso è, diciamo così, in discesa, perché gli argomenti di Java, almeno quelli fondamentali, li abbiamo visti praticamente tutti. Ci saranno alcuni argomenti teorici, tutto sommato, non particolarmente approfonditi, quindi si tratta di iniziare a consolidare tutto quello che avete visto con calma e per questo faremo un po' di esercizi. Oggi parliamo dell'ultimo argomento un po' significativo che riguarda Java, che sono le espressioni regolari. Le espressioni regolari erano l'argomento dell'ultima lezione asincrona, quindi non vi sto a ripetere tutti gli aspetti di come si costruiscono le espressioni regolari, lo vediamo un po' per esempio. Iniziamo a vedere come gestiamo le espressioni regolari in Java. Allora, un'espressione regolare è descritta con una particolare sintassi e normalmente noi prendiamo una stringa che contiene questa sintassi e la andiamo a elaborare e andiamo a compilarla e a costruire una rappresentazione interna di quello che è l'espressione regolare. E questo lo facciamo tramite una classe che si chiama pattern è uguale a pattern.compile e passiamo a questo metodo che è un metodo di tipo factory, crea un oggetto di tipo pattern, l'espressione regolare è rappresentata come stringa. Come funziona un'espressione regolare? Diciamo che vogliamo andare a descrivere un'espressione regolare per andare a riconoscere un identificatore di un linguaggio di programmazione. Allora, nel nostro identificatore che cosa avremo? Avremo i caratteri maiuscoli e minuscoli. Quindi quello che posso fare è andare a utilizzare A oppure B oppure C oppure D e così per tutte le lettere maiuscole o per tutte le lettere minuscole, eccetera, oppure posso andare a utilizzare quelle che si chiamano le classi di caratteri, ovvero racchiudo tra quadre tutti i caratteri che posso andare a accettare e posso andare a descrivere i caratteri non in maniera puramente numerativa, ma posso anche andare a specificare quelli che sono degli intervalli di caratteri, per cui se io vado a scrivere A trattino Z tra quadre, significa che accetto qualunque carattere dalla A alla Z. All'interno di una classe di caratteri io posso andare a inserire tanti intervalli, per cui ad esempio posso andare a mettere anche A maiuscolo Z. Zero, nove. Quindi questi... questa espressione regolare tra quadre riconosce un carattere che sia una lettera minuscola, una lettera maiuscola, oppure un numero tra zero e nove. Un identificatore normalmente ha questi caratteri, normalmente non può iniziare con... domanda, se io mettessi A Z, cioè, scusatemi, se io mettessi così, prende sia le maiuscole che le minuscole, allora, se io scrivo così, non prende nulla, perché nel codice ASCII, vediamo se vi trovo un... al volo, a parte le pubblicità varie, allora, vedete che... allora, questi sono i codici bassi, ecco abbiamo i codici che vanno da 48 a 57 decimali, che sono i numeri. Poi abbiamo le lettere maiuscole, da 65 fino a 90, poi abbiamo quadre, slash, accento circonflesso, eccetera, e poi abbiamo A, eccetera. per cui potrei mettere A maiuscolo Z, ma se metto A maiuscolo Z, riconosco anche quadra, slash, chiusa quadra, accento circonflesso, questo è l'underscore, e l'accento grave. Perché? Perché nel codice ASCII non ci sono le lettere maiuscole, e subito dopo le minuscole. Quindi, utilizziamo questo ordinamento. Tra l'altro, questo è il codice ASCII, ma l'ordinamento delle lettere, almeno dei primi 127 caratteri, è esattamente lo stesso anche nella codifica UTF e anche nella codifica ISO 8859. Per cui è il motivo per cui non posso collassare i due intervalli in quel modo. quindi questa espressione regolare è in grado di riconoscere qualunque carattere alfabetico oppure numerico. Ovviamente un identificatore è costituito da più di uno di questi caratteri, e quindi dobbiamo andare a specificare che quel carattere, quindi uno qualunque tra, può essere ripetuto una o più volte, e questo lo facciamo tramite il più. Quindi il più mi dice uno o più. L'altra possibilità di ripetizioni è l'asterisco, che vuol dire zero o più, e il punto interrogativo che vuol dire zero o uno. questo ci riconosce un carattere, scusate, un identificatore. Per cui, come facciamo a riconoscere un identificatore? Quindi abbiamo la nostra stringa di input che è uguale a un identificatore. e a questo punto che cosa facciamo? Andiamo a fare un matcher m uguale r.matcher e vado a mettere l'input. Quindi il matcher che cos'è? È sostanzialmente il risultato di quello che è il riconoscimento. Quindi, a questo punto, quello che posso andare a fare è andare a vedere se riconosciuto è uguale a m.matches e qui vado a mettere il risultato di questo riconoscimento. Per cui system.out println riconosciuto due punti più riconosciuto quindi se vado a eseguire abbiamo riconosciuto troppo quindi che cosa fa questa espressione regolare? Ci dice io posso accettare un qualunque carattere alfabetico o numerico maiuscolo o minuscolo ripetuto una o più volte quindi il più mi dice quello che precede cioè l'espressione tra quadre può essere ripetuta una o più volte ma almeno una volta. Se utilizzate l'asterisco mi dice anche zero o più volte quindi mi dice che è opzionale praticamente. Il più opera su quello che precede mi dice uno o più volte. Questo va bene per andare a riconoscere identificatori in Java io posso mettere posso cercare di mettere un identificatore con un numero iniziale ma normalmente in Java come in buona parte dei linguaggi di programmazione il primo carattere non può essere numerico deve essere per forza alfabetico. Ok? Quindi ovviamente se io qui vado a mettere invece di un identificatore un identificatore e lo lancio mi dice c'è riconosciuto true perché questa espressione regolare non fa nessuna distinzione su quale sia il primo carattere o no. Quindi volendo andare a scrivere un'espressione regolare che non riconosce questo come identificatore quello che possiamo fare qui è andare a dire va bene il primo carattere deve essere per forza un carattere alfabetico seguito da un qualunque carattere di altro tipo. Ok? Quindi in questo caso se vado a eseguire il mio riconoscitore su su questo allora se volete facciamo fare possiamo fare così vado a mettere un po' di esempi quindi identificatori uguale un identificatore virgola for string in input in identificatori e qui vado a mettere sostanzialmente input più il risultato del riconoscimento allora se trovo a stampare il matcher allora attenzione tu hai stampato probabilmente il matcher e non il risultato di matches di estampato m ok la regione è sostanzialmente l'intervallo di caratteri in cui della della stringa di input in cui è stato riconosciuto l'espressione regolare quindi dal carattere 0 fino al carattere 16 in questo caso però normalmente quello che facciamo non è andare a controllare quello che c'è dentro ci sono dei metodi per andare a capire allora il matches tendenzialmente che cosa fa? cerca di riconoscere l'intera stringa come espressione regolare un altro metodo che vediamo tra un attimo si chiama find e questo metodo cerca di trovare all'interno della stringa di input una corrispondenza dell'espressione regolare quindi è possibile che non tutta la stringa corrisponda all'espressione regolare ma soltanto una parte quindi in questo caso l'espressione regolare ci riconosce quella sotto stringa della stringa di partenza altra domanda in questo caso riferirsi ai caratteri speciali e corretto dire metacaratteri se volete sì normalmente si chiamano speciali non tanto metacaratteri il nome che si utilizza di solito e che trovate di solito è carattere speciale o special character scusate torno qui a questo punto provo a vedere il risultato quindi un identificatore me lo riconosce come true perfetto lo vediamo qui sotto invece un identificatore con l'uniziale me lo riconosce come non me lo riconosce perché abbiamo detto che la regola è che il primo carattere deve essere un carattere alfabetico altra possibilità qui vado ad elencare in altri possibili identificatori così vediamo se ce li riconosce la variabile i la variabile i secondo voi la riconosce o no? no perché perché sostanzialmente la nostra espressione regolare ci dice voglio un carattere iniziale bene però dopo voglio che sia seguito da uno o più altri caratteri ok suggerimento in chat da Silvio ci vorrebbe un asterisco esattamente quindi qui invece di mettere un più devo mettere un asterisco dicendo voglio un carattere iniziale e poi un qualunque carattere alfabetico numerico ripetuto zero più volte quindi potrebbe anche non esserci potrebbe esserci soltanto il primo carattere e basta ok e quindi in questo caso avendolo corretto sì questo punto ci riconosce anche i abbiamo poi anche i nomi di costanti quindi una costante una costante però non ce la riconosce perché perché sostanzialmente l'underscore non fa parte dei caratteri riconosciuti quindi qui vado ad aggiungere anche l'underscore quindi a questo punto perfetto un identificatore questo qui è l'unico che non ci riconosce ma è giusto che non ce lo riconosca perché non è un identificatore corretto una costante ce la riconosce ok quindi vedete che iniziamo a insomma essere un po' più precisi quindi in questo modo siamo in grado di andare a riconoscere un identificatore tenete presente che normalmente questo insieme di caratteri viene riconosciuto con una un carattere speciale ve lo scrivo qui sotto così resta il primo il carattere speciale è backslash w un word carter attenzione qui è un concetto relativamente semplice ma poi nella pratica rischia di essere complicato l'espressione regolare prevede di avere un unico backslash ma visto che stiamo descrivendo una stringa se dobbiamo mettere un backslash dobbiamo quotarlo e quindi dobbiamo metterlo doppio ok quindi io posso mettere string rega exp uguale questa stringa e system out println rega exp vado a mettere l'espressione regolare ok a questo punto se io eseguo vedete che nella stampa qui sotto l'espressione regolare include un unico backslash ok perché backslash w nell'espressione regolare significa una word carter ok quindi questo è il modo in cui lo facciamo ovviamente quando lo scrivo nel programma avendolo scritto come una stringa per rappresentare un singolo backslash lo devo raddoppiare la quotazione che insomma abbiamo già visto avete già visto probabilmente dai primi corsi di informatica è ovvio che poi a questo punto se voi dovete andare a mettere un backslash da solo lo dovete quotare ok se io voglio andare a conoscere un singolo backslash all'interno della mia espressione regolare ne devo mettere quattro ok è poco intuitivo a vederlo però se ci pensiamo e ci ragioniamo con calma lo capiamo quindi quello che potete fare per essere sicuri di aver scritto l'espressione regolare nel modo corretto è stamparla una volta che l'avete stampata avete tutto vi faccio notare che se andiamo a vedere l'API un attimo già va utile regax e andiamo a prendere pattern qui nella documentazione abbiamo tutti i vari caratteri per cui altri caratteri speciali ok vedete il backslash caratter è quotato abbiamo qui le varie classi di caratteri predefinite ok quindi vedete che il w minuscolo mi dice az az underscore zero nove ne abbiamo anche altri abbiamo ad esempio backslash d che vuol dire un carattere numerico quindi una cifra e il punto che vuol dire qualunque carattere tranne terminatore di linea ok l'altro che si usa abbastanza è s backslash s che significa un carattere di spaziatura che vuol dire spazio tabulazione new line 0x0b 0x0b credo che sia una spaziatura verticale form feed e carriage return domanda quindi backslash inserito una volta solo e seguito da altri caratteri cosa può servire può servire se voglio andare a riconoscere un ad esempio una capo quindi se metto backslash n quello viene riconosciuto come carattere di capo oppure se voglio mettere un carattere speciale e quindi posso utilizzare la notazione backslash x il codice ASCII o backslash u e il codice unicode altrimenti un singolo backslash seguito non da uno di questi caratteri particolari tendenzialmente è un errore ok per cui il singolo backslash spesso all'interno di un'espressione regolare significa che avete commesso un errore quindi fate riferimento alla documentazione ok non è chiaro è ovvio che uno si ricorda tutto soprattutto se non le usa spesso però alcune cose base almeno gli operatori fondamentali che sono quelli che trovate qui quindi il più eccoli qua dal punto gradativo l'asterisco il più le quadre ecco sono cose abbastanza comuni ci sono alcune cose insomma altre più più complicate ma non non entriamo troppo nel dettaglio ok quindi questo giusto per capire quali sono i modi base di andare a scrivere un'espressione regolare a questo punto proviamo a scrivere un'espressione regolare per qualcosa di un po' più complicato allora ad esempio un'email come facciamo a riconoscere un'email allora per riconoscere un'email c'è ci sono degli standard ufficiali si chiamano rfc che ci dicono esattamente come è strutturato un'email ora io vi copio qui l'espressione regolare secondo lo standard rfc 5322 di come è possibile andare a definire un'email ok questo è quello che ci dice lo standard è ovvio che un'espressione regolare di questo tipo difficilmente uno la scrive a mano e difficilmente la scrive giusta al primo colpo ok per cui l'unica cosa che riusciamo a riconoscere qui evidentemente è questo et ok quindi sappiate che c'è un'espressione regolare ufficiale che però è estremamente complessa per cui per cui ci sono in alcuni casi l'uso delle quadre ci sono notazioni vecchissime che sostanzialmente non sono più neanche più implementate neanche nei server di posta attuali ok quindi sapete che c'è un'espressione regolare diciamo così ufficiale secondo lo standard che è questa e poi qualcosa che andiamo a scrivere noi in maniera un po' più semplice quindi pattern email uguale a pattern punto compile e quindi andiamo a mettere la nostra espressione regolare come è fatta un'espressione regolare beh abbiamo di nuovo i nostri caratteri a z a z 0 9 possiamo avere l'underscore possiamo avere i punti ditemi se ho dimenticato qualcosa direi di no seguito da una chiocciola seguito da quello che è un nome di dominio il nome di dominio è normalmente formato da caratteri quindi a z a z lo riscrivo così non uso i caratteri speciali perché così è più facile da da comprendere ripetito più volte ci vorrebbe un più prima qui giustamente sì ok quindi questo è il nome utente quindi uno di questi caratteri ripetuti uno più volte e poi ho il mio dominio qui posso avere ovviamente dei punti allora corretto in questo caso m uguale a email punto matcher punto et dominio system out println m punto matcher quindi in questo caso ci riconosce anche questa cosa ok potrebbe riconoscerci qualcosa con uno spazio no non ci riconosce qualcosa con lo spazio perché il punto quando viene messo all'interno di una classe di caratteri non necessita il backslash ok è un caso un po' particolare sono tre regole un po' strane delle espressioni regolari ma quando è all'interno di una classe di caratteri non richiede il backslash perché il punto di per sé è come fosse una classe di caratteri quindi se all'interno di una classe di caratteri vale come punto e basta in questo caso anche dominio senza it potrebbe essere ammesso certo potrebbe andare va bene non ho nulla ok non ho nessun vincolo qui qualunque carattere va bene ci posso anche mettere tre punti alla fine e questo me lo riconosce come corretto ecco a questo punto è ovvio che sì un'email corretta la riconosciamo però riconosciamo anche un sacco di mail che sostanzialmente non non vanno bene a questo punto come posso fare quello che posso fare allora voglio innanzitutto un pezzo di dominio che è il primo adesso arriviamo a a qualche vincolo in più allora diciamo che vogliamo il dominio che cos'è è una sequenza di un identificatore senza punti ok quindi diciamo questa cosa qua lo metto tra parentesi così ce l'abbiamo separato seguito da eventualmente uno o più sequenze di punto identificatore punto identificatore eccetera quindi seguito da in questo caso ci metto il punto perché voglio esattamente il punto e poi un identificatore questa ultima parentesi qua la voglio ripetuta uno o più volte quindi non accettiamo dominio e basta dobbiamo avere almeno un punto quindi dobbiamo avere il nome di un dominio che abbia due componenti ora onestamente non conosco gli standard internet sufficientemente per dirvi se è vero diciamo che nella mia esperienza di solito non c'è mai un dominio e basta di solito c'è sempre almeno due componenti quindi c'è almeno un punto c'è ci sono due componenti nel nome del dominio quindi questo lo mettiamo in più in questo caso ovviamente punto dominio non ce lo riconosce più domanda per quotare il punto dobbiamo mettere due backslash sì perché backslash punto non è un carattere speciale delle stringhe quindi se voglio quotare il punto devo mettere un backslash come carattere vero e proprio seguito dal punto le espressioni regolari interpreta il backslash seguito dal punto come un punto specifico domanda i caratteri aperti e cruza tonda non vengono interpretati come i caratteri stessi no perché i caratteri perché le tonde fanno parte dei caratteri speciali quindi se volete riconoscere una tonda dovete mettere il backslash prima allora tenete conto io sto parlando di quelle che sono le espressioni regolari complete ufficiali ci sono poi tantissime variabili vi allargo lo schermo ci sono tante varianti delle espressioni regolari che possono includere tutti o meno questi questi operatori se voi utilizzate diciamo ambienti linux o simili c'è un programma da linea di comando che si chiama grep che usa le espressioni regolari per andare a identificare all'interno di un file di testo quali linee corrispondono a una certa espressione regolare in questo caso diciamo che non tutti questi elementi compaiono per cui le espressioni regolari base che utilizza grep ad esempio non hanno il più ma non hanno soltanto l'asterisco domanda i domini su più livelli come li gestiamo? allora li gestiamo in questo modo quest'ultima parte ovvero punto identificatore viene ripetuto uno più volte quindi questa cosa qua ci riconosce polito punto it softeng punto polito punto it sub punto dominio punto top level perché perché quest'ultima parte è ripetuta una o più volte quindi l'idea è che ovviamente ho un pezzettino quindi primo segmento seguito da punto segmento ripetuto uno più volte quindi in questo caso ovviamente questo punto dominio non ce l'abbiamo più faccio il giochino di prima string quadre email uguale a anzi stream of ci metto questo che abbiamo detto che non funziona punto map email mail punto match punto map match freccia no così non funziona scusate mi perdo cioè prima fare un for each email vado a creare il match e poi vado a stampare e più freccia ci sono allora dimenticato il più ok quindi a questo punto dominio è falso ovviamente se andiamo a mettere un altro che è vettore et volito punto it ce lo riconosce ok se andiamo a mettere marco et an et teng punto polito punto it anche questo ce lo riconosce correttamente ok e quindi abbiamo migliorato un po' ovviamente nella prima parte non posso iniziare con un punto ok abbiamo un po' di altri dettagli ora per scrivere un riconoscitore insomma ben fatto serve del tempo ok questo era giusto un esercizio per farvi vedere come è possibile farlo se volete potete andare a identificare casi particolari e scrivere le vostre le vostre espressioni regolari in modo che identificano i casi particolari gli errori ma non lasciano passare ma non blocchino degli email delle email valide altra caratteristica importante delle espressioni regolari è la capacità di riconoscere non soltanto l'unica sequenza ma andare a identificare quelli che sono i gruppi quindi io posso andare a identificare delle porzioni di espressione regolare e fare in modo che l'espressione regolare mi riconosca quella porzione e dica che quello è un gruppo quindi come faccio a fare questo? l'idea molto semplice è tutte le volte che io ho un qualcosa racchiuso tra parentesi tonde quello diventa un gruppo quindi questo qui vedete quello che corrisponde al nome utente è un gruppo questo qui è il gruppo 1 ve lo metto così quindi questi caratteri che avete lì sotto sono l'espressione regolare che avete lì sotto corrisponde a quello che riconosce il gruppo 1 poi vedete che qui ho delle altre parentesi per cui questo diventerà il gruppo 2 e questo diventerà il gruppo 3 scusate non 2 l'ho riscritto e questo sarà il gruppo 3 ok in effetti quello che posso fare è andare a dire scusate gruppo 1 più il mio matcher punto gruppo di 1 esiste sempre un gruppo 0 che è tutta l'espressione riconosciuta quindi 1 2 3 1 2 e 3 qui se eseguo quello che ottengo è scusatemi ovviamente se non riconosce nulla non posso andare a prendere i gruppi quindi if riconosciuto allora vado a stampare i gruppi altrimenti ovviamente i gruppi non li trova se non riconosce l'espressione ok a questo punto vedete che questo non me lo riconosce questo qui me lo riconosce e mi dice il primo blocco è rettore il secondo è pulito il terzo è .it questo qui è marco d'orchiano softeng .it ovviamente sull'ultimo abbiamo un problemino perché questo gruppo viene ripetuto più volte ovviamente quale gruppo ci prende l'ultimo ok perché il gruppo è quello se il gruppo numero 3 se quel gruppo 3 può essere ripetuto più volte ce ne può dare soltanto uno ok voi direste sì potrebbe metterci una lista eccetera ok il comportamento standard delle espressioni regolari è se un gruppo è ripetuto ci dà l'ultima occorrenza ovviamente a noi interessa relativamente poco avere questi componenti questi pezzettini del nostro del nostro dominio noi vorremmo avere il dominio complessivo per avere il dominio complessivo è molto semplice basta mettere una coppa di parentesi tonde attorno a tutto questo quindi tutta la seconda parte a questo punto appena inizia una parentesi tonda il nostro riconoscitore dice che questo quello che sta dentro la parentesi tonda è il gruppo 2 e voi direte sì ma le parentesi tonde che sono annidate quelle dove stanno beh quelle appena incontro una parentesi tonda incremento di 1 il contatore di gruppo e per cui quello che succede è che questa ulteriore parentesi tonda avrà come numero 3 e quest'altra come numero 4 ok quindi se ho delle parentesi annidate l'ordinamento è parto da quella più di alto livello e poi numero quelle scendendo a questo punto se io lo sposto in basso così lo vediamo se io eseguo questo codice vedete che il gruppo 1 è il nome dell'utente il gruppo 2 è tutto il nostro dominio e il gruppo 3 è il primo segmento del 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 nostro dominio non ho stampato il gruppo 4 ma il gruppo 4 sarà ovviamente quello che segue in questo caso però del gruppo 3 non ce ne frega assolutamente nulla ok esattamente quello che c'è in chat adesso ok quindi il primo è il nome utente il il secondo è tutto il gruppo il punto 3 allora il punto 3 dipende come hai messo le parentesi vi metto qui una un s 987654 at studenti punto polito punto it il primo mi prende esclusivamente studenti dipende da come dove hai messo le parentesi dove hai messo i più un'altra 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 domanda in questo caso in indirizzo macro-torchiano abbiamo come gruppo 3 softeng sì perché sostanzialmente il gruppo 3 è il primo elemento se io mettessi il gruppo 4 il gruppo 4 adesso ci arriviamo ve lo metto così lo vediamo sono tutti i gruppi che ci sono becca soltanto l'ultimo pezzo macro-torchiano come s matricola studenti punto polito punto it hanno la stessa struttura quindi il primo è ovviamente il nostro nome utente il secondo è tutto quello che c'è dopo la chiocciola il terzo è il primo segmento e questo è l'ultimo ovviamente se voi raggruppate in maniera diversa è possibile che nel terzo ci sia tutto il secondo pezzo quindi ovviamente il gruppo 2 è indipendente da come è fatto il gruppo 1 perché il gruppo 2 vedete il gruppo 2 inizia dopo la chiocciola quindi tutto quello che c'è prima della chiocciola quindi la ripetizione di questi caratteri va a finire nel gruppo 1 dopo la chiocciola è tutto compreso in questa tonda e quindi tutto quello che c'è dopo la chiocciola va a finire nel gruppo 2 ok a questo punto in questa particolare espressione regolare dei gruppi 3 e 4 non ce ne frega assolutamente nulla sono delle parentesi messe per dare della precedenza e quindi quello che facciamo di solito è considerare quelli come dei gruppi non di cattura non capture group e lo possiamo fare andando a mettere qui un punto interrogativo due punti proprio all'inizio della nostra espressione del nostro parentesi scusate questo punto interrogativo a due punti dice allora questo è un gruppo ma non deve essere catturato ok usa le parentesi esclusivamente come operatori di precedenza non come operatori di raggruppamento e stessa cosa idem per questo qui due punti a questo punto i gruppi 3 e 4 essendo diventati dei non capture group non ci sono più quindi il 2 è tutto quello che va a finire fino qua a questo punto i gruppi 3 e 4 non ci sono quindi ve li commento perché altrimenti mi dà errore e quello che ottengo è utente dominio utente dominio utente dominio domanda se ci fosse un altro gruppo come il 2 dopo il gruppo 2 come funziona la numerazione la numerazione funziona che quando incontro la parentesi aperta quella diventa un nuovo gruppo quindi ogni parentesi aperta incremento di 1 quindi più a nido sostanzialmente se immaginate le parentesi come livelli successivi vado prima in profondità a numerare e poi vado avanti parto da quelli più di alto livello scendo giù se volete se immaginate un albero è una visita in preorder allora in questo caso specifico avendo messo che questi sono degli non capturing group questi non contano quindi se ci fosse un gruppo successivo qui sarebbe il 3 quindi quando incontro un non capturing group quindi due punti tonda punto interrogativo due punti quello non conta se questi fossero dei capturing group ovviamente quello successivo sarebbe il 5 avendo detto che quelli non contano come gruppi di cattura quindi la parentesi che ci fosse dopo diventerebbe la 3 posso fare un altro passo avanti domanda le prime parentesi l'intero del gruppo 2 non sono ridondanti allora questa sì sicuramente perché il più si applica a una classe di caratteri e quindi sostanzialmente non serve la seconda no la seconda no perché il più si applica a punto seguito da classe di caratteri ripetuta quindi questa parentesi serve perché altrimenti questo più quasi applicherebbe soltanto al più della della classe di caratteri che tra l'altro non avrebbe senso fare più più ma in realtà il più si riferisce a punto seguito da ripetizioni di classe di caratteri quindi la seconda parentesi in questo caso serve questi questi sono i gruppi che sono automaticamente numerati volendo posso anche dare dei nomi ai gruppi ok come faccio a dare i nomi ai gruppi beh di nuovo punto interrogativo minore quindi utente maggiore quindi con questa struttura punto interrogativo minore il nome del gruppo maggiore sto dicendo che quel gruppo lì ha come nome utente e quest'altro gruppo qui quello che prima era il 2 diventa il dominio a questo punto invece di andare a riferirmi ai gruppi con il numero faccio lo copio e poi lo commento posso andare a dire utente dominio e andare a utilizzare non il numero ma bensì il nome quindi questo mi dice questa cosa qua prima della chiocciola e l'utente questa cosa qua dopo la chiocciola in avanti diventa il dominio l'utente è questo e il dominio è questo allora domanda che cosa serve questo punto interrogativo due punti sostanzialmente mi dice che quella coppia di parentesi che inizia subito prima del punto interrogativo è una un gruppo non di cattura quindi a quel gruppo non verrà associato un numero e non verrà salvato un gruppo di di cattura e quindi non ci sarà una corrispondente inserimento di carattere perché perché l'abbiamo messo perché sostanzialmente non ci interessa quel segmento lì e quindi diciamo io potrei tranquillamente fregarmene e non metterlo però la cosa complica un po' l'espressione regolare quindi la rende meno efficiente se volete quindi tanti gruppi di cattura portano a un'inefficienza quindi l'idea è di mettere esclusivamente quelli così veramente utili domanda quindi il punto interrogativo è un carattere speciale e per indicare il carattere nudo punto interrogativo bisogna usare il doppio backslash sì in realtà ecco no non l'abbiamo visto prima ma il punto interrogativo senza nulla dopo un'espressione significa che l'espressione precedente può essere ripetuta zero o una volta quindi l'espressione precedente è opzionale comunque sì fa parte di caratteri speciali e quindi deve essere quotato se lo voglio utilizzare se voglio rappresentare il carattere punto interrogativo e non l'operatore punto interrogativo ok quindi diciamo che questi sono gli elementi base pattern url uguale a pattern punto compile cosa ci mettiamo qui ok è lunga ok lo proviamo a fare come esercizio ulteriore ma il primo componente di un url è quello che si chiama il protocol e normalmente è una sequenza di caratteri a z a z se voglio evitare di mettere tutto questo posso mettere l'abbiamo visto prima velocemente il carattere allora no qui non c'è dovrebbe essere c ma non c'è va bene no scusate questo qua abbiamo anche questi caratteri qua ok oppure posso andare a specificare un secondo parametro del metodo compile che mi dice ignora le differenze tra minuscole e maiuscole e quindi è un po' più semplice sì p alfa è un po' più semplice di andare a scrivere ok in realtà slash p alfa è più lungo di questo ok quindi tendenzialmente non cambia molto forse è più facile da leggere non lo so però è analogo quindi il protocol è sostanzialmente una sequenza di caratteri alfabetici sequenza quindi più il protocol è seguito da un due punti poi ho il mio host ve lo scrivo qui su più linee così riusciamo a leggerlo un po' più facilmente quindi prima parte è il protocol seguito da due punti slash e poi quello che diventa l'host quindi anche qui punto interrogativo host domanda se lasciamo uno spazio tra un gruppo e un altro significa che si deve essere uno spazio no gli spazi rappresentano degli spazi a meno che allora faccio prima farvelo vedere qua eccolo qua il secondo parametro del metodo compile che è opzionale ovviamente flags ha una serie di flag che sono case insensitive multi line quindi posso mettere degli a capo e comments comments sostanzialmente mi dice che posso mettere gli spazi ed eventualmente dei commenti all'interno del nostro dell'espressione regolare quindi posso mettere più righe se metto se metto un hash seguito da qualunque cosa quello viene interpretato come commento fino alla fine della riga gli spazi bianchi sono ignorati quindi a meno che non metta un backslash s allora quello diventa uno spazio ok per cui in assenza di questi flag gli spazi contano come spazi come carattere di spazio vero e proprio questo è il motivo per cui non vi sto mettendo nessun elemento extra quindi l'host di nuovo è la cosa che abbiamo messo prima quindi az più seguito da punto seguito da un altro pezzettino e quindi con questo chiudiamo host l'host è poi seguito da che cosa da quello che è un path il path è formato da delle sequenze che sono siamo abbastanza vaghi qualunque carattere tranne lo slash ripetuto più volte in realtà anche gli spazi qua in alcuni contesti non valgono ma semplifichiamoci la vita quindi sto dicendo qualunque carattere tranne lo slash il path inizia con un carattere di slash seguito da qualunque carattere domanda perché qui abbiamo messo questo perché il copia e incolla me l'ha aggiunto ok in realtà è uno solo questo è uno backslash seguito dal punto che vuol dire voglio esattamente il carattere di punto quindi backslash seguito da una sequenza di caratteri e questo è un pezzettino del path per cui questa cosa qua può essere ripetuta tante volte potenzialmente anche zero potrei mettere semplicemente il nome del lost senza nessuna parte di path ok e questo è un gruppo non di cattura ok perché è un pezzettino del path che non mi interessa e alla fine chiudo dopo di che alla fine posso avere ancora ci complichiamo la vita ulteriormente quello che si chiama il fragment che è sostanzialmente un qualcosa introdotto da l'ash e poi di nuovo praticamente qualunque carattere quindi punto più il fragment ovviamente è opzionale a questo punto andiamo a prendere ripeto la stessa cosa di prima così qui vado a mettere un po' di url qui lo riconosco con url e qui vado a mettere i vari pezzettini quindi protocol lost il path e l'eventuale fragment ora se non ho commesso errori vado a prendermi un url che è questo e vediamo se lo riconosce allora non lo riconosce perché perché in realtà finisce con uno slash che non è previsto qua quindi qui posso mettere uno slash punto interrogativo vediamo se ho azzeccato sì allora trost e path in realtà c'è perché il path inizia con uno slash mancava lo slash finale quindi o ne aggiungo uno in più all'inizio oppure come in questo caso ne aggiungo uno in più opzionale alla fine perché effettivamente potrebbe anche mancare domanda per avere il doppio slash dopo il protocolo non dovevo mettere il doppio allora no perché attenzione che nella nel nel sintassi dell'URL quello è uno slash non è il backslash quindi lo slash normale che è questo qui non è un carattere speciale quindi in questo caso mi ha azzeccato HTTPS mi ha azzeccato questo mi ha azzeccato API e mi ha azzeccato null ok se andiamo a prendere quest'altro tanto per fare un minimo di test potete aggiungere quello che volete in questo caso mi riconosce il protocollo mi riconosce l'host e mi riconosce il path non c'è un fragment volendo metterci un fragment possiamo andare qui a fare lezioni in questo caso c'è pure il fragment ecco non me l'ha riconosciuto perché sostanzialmente qui può essere qualunque carattere devo anche escludere il dash altrimenti l'idea è un'espressione regolare riconosce tutto quello che può e quindi mi riconosce anche l'ultimo pezzettino del del fragment come se fosse un pezzo del path visto che lo può riconoscere sia come pezzo del path che come fragment lui sostanzialmente continua a riconoscerlo come il primo pezzo della mia espressione regolare quindi ogni pezzettino dell'espressione regolare sostanzialmente riconosce finché riesce se io voglio evitare che il path riconosca anche il fragment devo andare a dire che non voglio questo carattere come pezzo del path quindi finalmente ce l'abbiamo ok ovviamente posso complicarmi la vita se voglio che il mio fragment non contenga l'hash qui potrei andare a mettere un non capture in group in cui il primo carattere è l'hash poi segue il fragment che è una sequenza di caratteri e vado a dire che quest'ultimo pezzettino qua è opzionale quindi il fragment è tutto quello che segue il carattere di hash ovviamente di nuovo è un esempio semplificato perché le url possono essere insomma molto più complicate però giusto per darvi un'idea di come è possibile andare a scrivere una espressione regolare per riconoscere dei frammenti ok a questo punto direi che possiamo fare una breve pausa e poi torniamo e vediamo come è possibile utilizzare le espressioni regolari per andare ad analizzare dei file di testo andando a suddividere le righe ci rivediamo tra un quarto d'ora quindi alle dieci e un quarto allora seconda parte della lezione l'obiettivo è capire come possiamo andare a utilizzare delle espressioni regolari o altri meccanismi per andare a leggere dei file e andare a analizzare i contenuti quello che molto spesso capita di avere è un file di tipo csv quindi vi creo al volo un nuovo file esempio punto csv che andiamo ad aprire con editor di testo e quindi qui andiamo a mettere non so matricola nome nome altra Grazie. Ok, tipica struttura di un file CSV, ogni riga è composta da singoli elementi, gli elementi sono separati da virgole, la prima riga contiene degli elementi che non sono dei dati, ma sono le etichette delle diverse colonne. Tutte le righe normalmente hanno lo stesso numero di elementi, se manca un elemento significa che sostanzialmente quel dato è mancante. Ok, quindi salviamo il nostro file e proviamo a leggere questi contenuti. Allora, immaginiamo di avere una classe studente che ha tre parametri che sono quelli che sono nel file, quindi l'idea è andiamo a leggere i file, un file CSV e memorizziamo i dati che ci sono nel file CSV in memoria. E idealmente ogni riga del nostro file è un caso e corrisponde poi a un nuovo oggetto di una certa classe che verrà creato. Quindi abbiamo nome, cognome e matricola, abbiamo un costruttore studente che sostanzialmente ha nome, cognome e matricola, dis.nome e matricola uguale a matricola. metto anche un toString così poi stampiamo il risultato, return lettura da file. Allora, elemento base, l'abbiamo visto nell'input-output, possiamo utilizzare un buffered reader per andare a leggere una riga per volta. È comodo utilizzare un buffered reader perché comunque i nostri file CSV tendenzialmente sono organizzati riga per riga. e quindi andiamo a mettere un buffered reader r uguale a new buffered reader di new file reader di, detto che si chiama, esempio.csv. ovviamente qui ci sono un po' di classi da importare e un'eccezione che o gestiamo o per semplicità in questo caso semplicemente e quindi andiamo a definirci una lista di studente 20 uguale a new linked list metto tutto qui nel main senza mettere attributi perché comunque qui siamo ok piccolo codice molto compatto di esempio quindi string linear for anzi while linea uguale r.readline diverso da null quindi ciclo finché abbiamo delle linee da leggere readline può lanciare un'eccezione quindi andiamo a aggiungerla alla throw mentre leggiamo le linee andiamo a elaborare la singola linea come facciamo a elaborare la singola linea? ok abbiamo tanti modi diversi opzione 1 string split ok quindi string quadre elementi uguale linea punto split che cosa ci mettiamo dentro il parametro dello split? split un'espressione regolare ok adesso finalmente capiamo come funzionava quello split che abbiamo fatto vedere quando abbiamo analizzato il testo ad esempio la suddivisione del testo delle canzoni in elementi quindi questa è un'espressione regolare che si riferisce al separatore quindi se vogliamo separare in corrispondenza delle virgole mettiamo una virgola e basta cosa succede se abbiamo degli spazi prima e dopo le virgole beh se io faccio così quindi spazio asterisco quindi posso avere degli spazi eventualmente anche nessuno prima e dopo a questo punto come faccio a prendere gli elementi? beh gli elementi sono già messi dentro il mio array ok so che sono nell'ordine e quindi so che le colonne sono matricola ce le vediamo qua eccoli qua matricola cognome e nome ok e quindi studente s uguale new studente i parametri del costruttore sono nome, cognome e matricola abbiamo detto che nel nostro nel nostro file csv sono matricola, cognome e nome quindi abbiamo elementi di 2 matricola cognome e nome quindi il nome è il primo elementi di 1 e la matricola che è l'ultima l'ultimo parametro è anche il primo invece ovviamente elementi di 0 è una stringa mentre invece allora la colonna 2 cioè l'ultima colonna è il nome e all'interno del nostro parametro è il nome e quindi i parametri del costruttore sono l'inverso del dei campi del nostro del nostro csv quindi quindi l'ultimo è avete ragione ho sbagliato qua e quindi questo è l'1 e questo qui è il 2 il terzo parametro questo è una stringa ma il costruttore di studente vuole invece una matricola e quindi noi andiamo a dire int matricola uguale integer punto parse int elementi di 0 e quindi terzo parametro non è la stringa ma è la matricola e poi faccio studenti punto add di s a questo punto tanto per verificare facciamo un system out println di studenti quindi se eseguo e non ho commesso errori ovviamente la prima riga non contiene dei dati ok quindi boolean first uguale true if first first uguale false e continue ok ovviamente potrei anche leggere una prima riga a vuoto e è un'altra possibilità ok a questo punto matricola rossi mario vera di giovanna neri erica e bianchi francesco ok quindi abbiamo i nostri i nostri dati e questo è un modo relativamente semplice di andare a leggere i dati quindi l'opzione 1 è questa opzione 2 uso una classe che si chiama string tokenizer string tokenizer st uguale a new string tokenizer che vado a importare che si trova in Java punto util che cosa fa prende sostanzialmente una stringa la nostra linea un separatore la virgola e va a spezzare tutta la linea in base a questo separatore come faccio poi a recuperare gli elementi ho un st punto next token che mi restituisce il prossimo elemento quindi string matricola diciamo così matricola str commento ovviamente quello di prima altrimenti facciamo due inserimenti quindi la matricola poi abbiamo lo dimentico sempre il nome e poi il cognome dopo di che abbiamo sostanzialmente un codice analogo a quello di prima dove abbiamo nome cognome e qui andiamo a mettere di nuovo il codice analogo a quello di prima che vada a leggere la matricola matricola str scusate scusate ho detto due volte quindi st next token mi dà il prossimo token ho un un altro metodo che si chiama has more elements o has more tokens che mi dice se esiste se esiste un prossimo elemento su cui andare a iterare e con questo funziona se io non ho un'idea ben chiara di quali quanti elementi ci saranno quindi mi prende tutti gli elementi uno dopo l'altro e me li legge quindi di nuovo eseguendo ottengo rossi verdi neri bianchi ok ok quindi questa è un'altra possibilità potrei utilizzare in alternativa un'espressione regolare quindi pattern riga uguale new pattern punto compile domanda string tokenizer è più efficiente della split sostanzialmente string tokenizer va in progressione e non genera sostanzialmente un array quindi non deve andare a costruire un nuovo array di stringhe quindi andando a creare tutte le stringhe ma sostanzialmente restituisce le stringhe una per volta quindi se volete per dire se io ho una stringa lunghissima e faccio una split e mi interessano soltanto alcuni elementi della split io comunque ho creato tutti gli elementi con la string tokenizer io posso sostanzialmente andare a prendere alcuni elementi poi chiudere e non ho creato tutti gli oggetti quindi è un'altra alternativa pattern l'abbiamo già visto prima ma possiamo andare a prendere pattern compile a questo punto l'idea è di andare a prendere le varie righe e leggere matricola cognome e nome quindi la matricola è 09 ripetuto più volte seguito da virgola seguito da diciamo caratteri az az possiamo anche metterci uno spazio nel caso in cui ci siano nomi composti anche lo spazio va bene ovviamente più e il cognome è fatto allo stesso modo domanda possiamo utilizzare uno scanner allora possiamo anche utilizzare uno scanner sì ci sono un certo numero di alternative ok scanner è un altro scanner è in grado tendenzialmente di leggere il contenuto intero di una di un file ok quindi io posso creare uno scanner passandogli un file e lui mi legge tutto l'elemento e poi a questo punto uso lo scanner per avanzare linea per linea senza dover andare a usare un un buffer e un buffer and river un buffer Altra possibilità ulteriore. A questo punto usiamo i gruppi, quindi matricola, allora, adesso arrivo al nome, abbiamo detto che è il primo, e poi cognome. Quindi usiamo questo pattern, io l'ho messo dentro il ciclo, ma ragionevolmente potrebbe essere messo fuori. Quindi, if, io devo fare un match, quindi matcher m uguale riga punto matcher linea, if m punto matches, vado sostanzialmente a dire int matricola uguale a integer punto parse int m punto group di matricola, int nome uguale a m punto group nome e cognome. Ok. Queste sono delle stringhe. E poi, sostanzialmente, ho la stessa operazione che ci avevo fatto prima. Allora, alcune domande. domanda. Nel caso del pattern, noi facciamo un atto di fede e speriamo che il formato del file sia corretto. Ad esempio, non manca nessun campo matricola. Adesso arriviamo alla gestione degli errori. Finisco questo e poi faccio un passo indietro, andiamo a vedere come queste tre alternative, in realtà poi ce ne sono tante altre, quindi scanner e un altro. Ne vediamo tre, giusto come esempi, e vediamo come possono gestire gli errori nei vari casi. Altra domanda, posso fare in modo che ci sia un numero esatto di ripetizioni? Allora, sicuramente, quello che posso fare è utilizzare invece del più, come utilizzato qui, una graffa che dica sei. e mi dice esattamente sei cifre decimali. Altra domanda. Non potrei leggere tutto il contenuto del file e poi utilizzare find invece di matches? Sì, il metodo find cosa fa? Cerca la prima occorrenza di una stringa e poi lo chiamo successivamente, quindi posso andare a riconoscere sequenze di questo tipo leggendo all'interno del mio file. Ovviamente dovrei riconoscere qui alla fine della mia riga anche a capo. E quindi richiamare find più volte, andando a riconoscere blocchetti di fatti in quel modo, e in realtà a capo oppure dollaro che è la fine del file. In questo caso noi abbiamo le letture che vengono fatte riga per riga e quindi diciamo che utilizziamo il matches. Il matches è molto stringente nel suo meccanismo di funzionamento perché richiede che la riga sia esattamente quella. A questo punto abbiamo i nostri elementi, leggiamo tutte le righe, tra l'altro vuol dire che questo matches sostanzialmente non richiede di saltare la prima riga perché la prima riga non ha una matricola. quindi fatto così riconosciamo i soliti nomi che sono quelli di Puma. Come trattiamo gli errori? Allora, questo matches si dice che la riga corrisponde esattamente a quello che ci aspettiamo oppure no. Quindi quel matches può essere utilizzato per andare a sostanzialmente verificare che le righe corrispondano a quello che ci attendiamo. Quindi se saltiamo la prima riga, facciamo come prima perché sappiamo già in partenza che non è corretta, qui possiamo andare a dire system out print ln la riga possiamo andare a contare le righe, possiamo andare a riportare la linea stessa non è formattata correttamente. quindi nel nostro file di esempio se abbiamo una matricola che è su quattro caratteri questo ci dice non corrisponde per cui tornando qui ed eseguendo quello che otteniamo è la riga 999 non è formatata correttamente e mi legge tutto il resto correttamente. ovviamente qui se volessi saltare la lettura del file del tutto basta fare un break e saltare poi il ciclo o lanciare un'eccezione o qualunque altra cosa mi comporti l'interruzione di questa lettura. quindi il pattern cosa fa? mi riconosce la stringa suppone che sia fatta in quel modo e la gestisce. Attenzione che io potrei anche avere alcuni elementi opzionali qui immaginiamo di avere data di laurea che c'è soltanto per 220-21 04-01 ok in questo caso nel nostro file CSV nella nostra pezzo opzionale di espressione regolare andiamo a dire che ci può essere una virgola seguita da scusatemi da la data che 0,9 ripetuto quattro volte seguito da un trattino 0,9 ripetuto due volte e 0,9 ripetuto due volte in realtà questi potrei andare a dire 1,2 e 1,2 ovvero minimo e massimo se volete qui sulla data posso essere ulteriormente specifico e dico che il primo carattere deve essere un carattere di da 1 a 2 ok 1000 o 2000 ok e poi ho 0,9 ripetuto tre volte posso essere specifico quanto voglio nelle mie espressioni regolari attenzione che tendenzialmente è meglio avere un'espressione regolare relativamente lasca e poi fare dei controlli dopo di coerenza piuttosto che complicarsi la vita in maniera inverosimile su queste questi tipi di espressioni per avere un vantaggio minimale quindi io posso dopo andare a fare il parsing della data e se la data non è corretta amen ok altro aspetto se io lì dico che l'anno deve iniziare con 1 o con 2 se questo codice ha la fortuna di campare mille anni nell'anno 3000 avremo qualcuno la cui data non è più riconosciuta quindi mettere troppi vincoli è un rischio conviene piuttosto spostare le verifiche a livello di codice dove è decisamente più facile andare a fare un controllo corretto ok anche lì per cui questa cosa qua mi dice va bene riconosci una data che abbia un formato fatto all'incirca così poi se è una data valida lo decidiamo dopo una volta che andiamo a riconoscere la data per cui qui abbiamo string data laurea uguale a m.group data e qui andiamo a passare la data di laurea vado a modificare la classe in modo da avere anche quest'ulteriore buto mettiamo un costruttore in più a guardare to' 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 Grazie. Ok. Domanda. Le modalità di evidenziazione per i vari linguaggi sopportati da un'idea si basano su espressioni regolari? Allora, qualunque linguaggio, qualunque analisi di linguaggio, si basa su espressioni regolari. Quindi, attenzione, ci sono due livelli di riconoscimento. Uno è il livello lessicale, quindi riconoscere i vari componenti, le varie parole o i vari elementi del linguaggio. Quindi l'analisi lessicale si fa con espressioni regolari. Il livello superiore è l'analisi sintattica, ovvero capire che una certa parola ha un certo significato. Quindi, capire che un nome, un identificatore rappresenta una classe oppure rappresenta un nome di una variabile o il nome di una funzione, eccetera. Ora, questo è un livello superiore e questo non si fa solitamente con le espressioni regolari perché le regole non sono così fisse, ma si fa con delle grammatiche, quindi sono delle cose leggermente più complicate. Però il primo livello, cioè capire che qui abbiamo public, che è una keyword, seguito da class, che è un altro keyword, seguito da lettura CSV, che è un identificatore, seguito da una graffa, e quindi riconoscere questi singoli elementi, sì, sono basati su espressioni regolari. C'è un corso della magistrale che si chiama Linguagio dei traduttori, se non mi sbaglio, in cui si parte dalle espressioni regolari e si sale su andando a vedere le grammatiche. Però è una cosa molto particolare e specialistica. L'utilizzo delle espressioni regolari da sole è molto ampio, quindi si possono fare tantissime cose. Ed è il motivo per cui ve le racconto, perché hanno un'utilità molto ampia. Quindi a questo punto, se non ho sbagliato nulla, vado a eseguire il tutto. Unclosed group. Ok, ho sbagliato qualcosa qui. Ecco, non ho chiuso la tonda del gruppo. della data e devo chiudere anche la tonda dell'ultimo pezzo e andare a dire che questo è opzionale. Quindi la data è questa, quella che vi sto evidenziando adesso. Ed è un gruppo che si chiama data. Questo ovviamente è opzionale, quindi virgola la data è raggruppato e gli applico l'operatore a punto interrogativo che mi dice questo elemento può esserci o meno. A questo punto vedete che ho i vari elementi e poi ho, nel caso di Erika Neri, la data con il conseguimento. Ovviamente questo meccanismo qua delle espressioni regolari funziona se io so che il mio CSV, poi se non è un CSV e invece di avere le virgole ho i punti e virgola, i trattini, una volta un trattino, una volta un punto e virgola, una volta un due punti, ho uno spazio, una tabulazione, qualunque cosa. Quindi non necessariamente una struttura standard e predefinita come un CSV, ma anche qualcosa di più, di meno fisso, lo posso tranquillamente andare a riconoscere. Ok? E il vantaggio è che posso tranquillamente gestire un riconoscimento molto specifico. Quindi la mia espressione regolare mi filtra tutte quelle che sono delle irregolarità. come mi comporto se invece di un'espressione regolare ho gli altri meccanismi. Ok? Lo scanner, se volete, tutto sommato, è una versione molto più sofisticata dello string tokenizer. Ok? Ma... Allora. Ritorniamo qui. Vado a commentarvi questa parte qua, che era la terza opzione. Quindi, espressioni regolari. Torniamo allo string tokenizer. Eccoci qua. Come faccio a verificare se la data che... Scusate, ti faccio vedere velocemente la classe student, che è questa qua. Quindi ho i quattro attributi, nome, cognome, matricola, data di laurea, che è opzionale. La data di laurea può non comparire o comparire a seconda del risultato. Se è presente o meno. Quindi ho due costruttori. Quando lo string tokenizer... Cosa posso fare? Posso utilizzare if st.asmoretokens, mi dice, c'è un elemento ancora dopo? Cioè, c'è la data? Se sì, allora vado a fare string data laurea uguale a st.nexttoken e vado a fare... a chiamare il costruttore con la data di laurea. Altrimenti... uso l'altro costruttore. In questo caso, mi accorgo dell'errore sulla matricola? Ah, qui non mi fa ad s perché... sono dichiarate dentro i blocchi e quindi non me li fa vedere. a questo punto se eseguo vedete che mi legge tutto e mi legge anche il 999 di John Smith pur essendo una matricola non valida. quindi il controllo che mi faceva l'espressione regolare questo non me lo può fare. Quindi lo potrei fare qui andando a dire if matricola è minore di 100.000 allora stampo questa cosa qua e scusate e passo all'iterazione successiva cioè alla linea successiva. cosa succede se nel mio file di esempio ho una linea incompleta come questa dice Jane non è formatata correttamente perché vabbè mi intercetta quello però se io avessi 1 2 3 9 9 9 quello che ottengo è no such element exception e il punto scusate non è qui ma è il punto in cui viene segnalato è questo quando faccio un next token quindi dovrei andare a verificare che in ogni punto ci sia un hasmore token oppure racchiudere il tutto il mio blocco dentro un try catch intercettando l'eccezione di no such element per cui fare un try catch no such element exception qui volendo posso anche andare a fare un catch di number format exception non vi sto a mettere il codice di gestione di questi errori ma l'idea è che non such element exception è da importare perché si trova in java.util e quindi abbiamo tutto qui ok nel caso dell'espressione regolare il vantaggio è che qui io posso andare tranquillamente a mettere un'espressione che garantisca che l'espressione che quello sia effettivamente un numero e quindi praticamente garantisco che quello verrà poi convertito tranquillamente in un intero senza possibilità di errore nel caso degli elementi allora a questo punto torniamo al caso della split quindi vi commendo tutto questo studenti.ad non l'avevo aggiunto quindi devo aggiungere lassù allora ve lo metto qua e anche qui cosa succede nel caso di errori per la matricola praticamente il controllo è quello di prima vi riporto esattamente quello che avevo fatto prima quindi verifico che la matricola sia quella corretta sostanzialmente sul numero di elementi posso andare a dire if elementi punto lento è minore di 3 oppure elementi punto length è maggiore di 4 allora vado semplicemente a dire che che non andava domanda non sarebbe più corretto andare a vedere sì allora quello che posso fare invece di fare questo ovvero dopo aver fatto la conversione potrei andare a dire elementi di 0 punto length è diverso da 6 questo corrisponde di più all'espressione regolare resta il punto che qui potremmo mettere xxxxxxxx invece di un numero e quindi avremmo l'eccezione qua sulla parsinte quindi qua comunque dobbiamo metterci un try un catch number format exception e qui vabbè non vi sto a mettere se volete possiamo andare a stampare la stessa cosa dove ovviamente questo è il blocco try ok perché ho messo il blocco catch qui in fondo perché sostanzialmente nel momento in cui io cerco di fare la conversione dell'intero e questo non è un intero salto direttamente qua quindi inutile che vada a creare lo studente o ad aggiungere salto direttamente dopo e quindi da qui ripeto la prossima iterazione ok quindi questa è una panoramica su varie allora sulla prima parte della lezione abbiamo visto un po' di espressioni regolari non abbiamo visto tutto ok se avete le slide della lezione c'è qualche cosa in più di un pochettino più complicato e sofisticato in questa seconda parte abbiamo visto come possiamo utilizzare un meccanismo banale come lo split un'altra soluzione alternativa che è lo string tokenizer oppure direttamente le espressioni regolari per andare ad analizzare un file di testo un file di testo che è organizzato a linee non sono tutte le varie possibilità ne abbiamo menzionate due che avete suggerito durante la lezione che riguardano ad esempio l'utilizzo dello scanner tra l'altro lo scanner può tranquillamente andare a utilizzare un'espressione regolare per identificare il prossimo elemento quindi sostanzialmente è abbastanza simile forse addirittura più flessibile rispetto al pattern al matcher l'altra possibilità è ovviamente quella di di andare a utilizzare un'espressione regolare su tutto il contenuto andando a utilizzare find più volte invece del del matches che abbiamo visto prima direi che con questo per oggi la panoramica l'abbiamo fatta chiudiamo la lezione e vi ricordo che tra i temi d'esame eccoci qua che vi ho recentemente pubblicato vi propongo di iniziare a guardare per giovedì questo delivro che poi inizieremo a impostare durante la lezione così iniziamo a vedere un po' un approccio di un di un tema d'esame ok dopodiché vi pubblicherò una serie di lezioni online quelle non saranno più per requisiti per alcuna lezione successiva ovviamente man mano che le guardate se voi avete domande ovviamente sono disponibile a questo punto faremo ancora qualche non faremo tutte le lezioni tendenzialmente l'ultima settimana di corsi non farei lezione per nulla e faremo piuttosto qualche esercizio e ovviamente magari dedicherò un po' più di tempo per rispondere a vostre domande varie su sui vari aspetti o problemi che potete aver incontrato bene con questo per oggi chiudiamo buona giornata a tutti e arrivederci a giovedì